Beatrice Luzzi non ha gradito affatto la battuta di Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello 18. Il conduttore, chiedendo all'opinionista di esprimere il suo parere su Shailagatta e la sua passione ritrovata con Javier Martinez, ha fatto dei riferimenti poco eleganti, paragonando le coccole sotto le coperte dei due alla sua esperienza nella passata edizione del GF. È un'esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio, Beatrice, che mi guarda con un'aria che mi vorrebbe ammazzare. Ma tu sei un'esperta di piumoni, ha esclamato Signorini, passando la parola all'attrice visibilmente contrariata, tanto che lui ha aggiunto mi vorrebbe ammazzare. Gli sguardi indispettiti di Luzzi hanno solo dato un assaggio di quello che realmente pensava, visto che solo nel cuore della notte è arrivata la replica velenosa su social. La cultura non necessariamente rende signori. Punzecchiata più volte durante la diretta del GF, Beatrice Luzzi ha voluto replicare alle frecciatine poco galanti di Alfonso Signorini, scrivendo «la cultura non necessariamente rende signori». Dopo le provocazioni del conduttore, la replica social dell'opinionista ha ricevuto molti commenti di sostegno. La situazione è degenerata quando Signorini ha continuato con le sue battute, lasciando intendere che Beatrice sia un'esperta di smancerie nascoste sotto le coperte.